musica in serio? dimmelo un po'? la regina di Roma ammassa quanto sei bella o? ti hai becca desti spicci va? quanto sei bella ti faccio fare io tu scatti via come va Chiara! Chiara! lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno e ora c'è un debole per il drama ma fu una tragedia terribile un disastro per tutti quelli che l'avevano vissuta e per un uomo in particolare vado dalla terra dei barbari viene da lì che è iniziata la loro relazione quella sapeva tutto che faccio? beh un modo per recuperare i soldi ci sarebbe quale? il Brenner rompe il datter qui vicino secondo me l'ha nascosto lì i soldi se vuole l'accompagna oh perché? perché quella troia me l'ha rubata me la deve pagare sono anni che aspetto questo momento credi mica che voglia che si spenda tutti i soldi con quella? credi mica che voglia che si spenda tutti i soldi con quella? non sto dicendo più no, non sto dicendo più tempo non sto dicendo più e questa chi è? ma questa chi? e dai mi piace tra la festa dei cuculati prima che ti fai partire la ciabatta questa peschella è diversa ma immagino si ma guardava a me però però che è che tuo padre te scortica se viene a sapere che esci con una di Roma Nord forse è un po' più peggio di così ma che ci vuoi essere di più peggio di usci con una di Roma Nord questa è Giulia cuculati ma no ma no ma no ma questa la regola petti piccoli coli piccoli matematica amore mio matematica see you later mi scusi signora ciao Anna volevo scusarmi per ieri sera Marta tesoro oddio scusa ho un'altra chiamata sotto ti richiamo ok ciao no fai quello che ti ho detto fallo bene e fallo subito non sei tagliata per certi ambienti ma per quali sarei tagliata invece? ma dove vai con questo magliano? ma che è la febbre? ma mamma invece cosa ne pensa dell'università di Trento? ma sei scemo? eh ma te ma che mi vuoi far morir di crepe agora a me? allora tu la devi smettire così hai capito? non esiste più che fai queste cose a mamma hai capito che sono stata preoccupata tutto il tempo? vieni qua dammi un bacio scemo prometto si riprenderà del tutto vero? ma certo signora stia tranquilla e un momento io non ce la faccio più quindi il presidente si scopa Rosa Luxemburg non ti permettere con Luca scopava non lo sapevi sì? non usare questo verbo è orribile ma come cazzo fai a fare la psicanalizzazione è una tale sessuofo Rosa è minorenne e finite tutti in galera lo sai? ti scaltano contro una raccolta di firme ma dov'è? ma dov'è? ma dov'è? come cazzo fai a fare la piccola alle Grazie a tutti.